cari amici buongiorno eccoci ancora assieme per un nuovo incontro e allora io mi sto preparando alcune cartucce perché mi hanno proposto di andare a fare una cacciata in macedonia questo mese di agosto e quindi mi devo mi è piaciuta l'idea andare a quagli e poi anche con un bacio e torture e quindi ho pensato di cominciare a preparare le cartucce appositamente per questa occasione le cartucce che mi preparerò saranno in parte del calibro 12 in parte del calibro 28 perché intendo portarmi due fucili da utilizzare a seconda delle situazioni e allora oggi vorrei farvi vedere una cartuccina nel calibro 28 che ho messo a punto appositamente per le quaglie è una cartuccia di quale anche valore di banco quindi ho preferito darvi quella versione con cui ho valori di banco dire che l'abbiamo messo a punto io un po eccessivo perché è una cartuccia con un dosaggio molto comune quindi l'avrete anche già probabilmente vista da altre parti comunque ho pensato di assemblerlo un po così è un po con la borra in feltro che per la verità è quella esteticamente che mi piace di più però siccome trovate valori di banco di quella fatta con la borrettina bior questa qua l lb voglio darvi questa questa cartuccia così fatta in modo che valori sono perfettamente quelli della cartuccia tenete conto che volendo utilizzare anche coppette borre in feltro potete tranquillamente farlo e avrete valori molto simili leggermente forse più alta le pressioni ma neanche tantissimo quindi comunque avendo questa versione precisa vi do questa guardate che nel bossolo questo trasparente con la bior sta bene ma con la borra sfs rosa secondo me esteticamente ancora più carina comunque vedete un po l'importante è che la cartuccia funzioni e questo vi garantisco che funziona ho fatto delle prove di rosata e fa rosata bellissima veramente bella ovviamente è una cartuccia che nasce per tiri medio corti non per tiri lunghissimi e con piombo 10 ed è specifica per le quali che comunque una 23 grammi al 28 non è una bazzecola è una cartuccina tosta ok ricordo sempre impariamo a caricare chiocciolaribero.it che è la mia email se mi volete contattare e andiamo un po esaminando i dettagli questa cartuccia in calibro 28 70 innesco 615 la m92s questa è la monobasica della baschiere per la che io ho scelto in dose di 1 e 15 per 23 piombo 10 borra lb come avevo detto la biorro della lb molto buona è una stellare che chiudiamo a 61 questa cartuccia mi ha dato dei valori di banco molto interessanti una velocità a 2,5 metri dalla bocca di 386 metri al secondo questo significa che siamo intorno ai 400 metri al secondo una velocità ottima una potenza massima di 689 bar quindi una cartuccia molto bene equilibrata e un tempo di canna di 3156 ecco il tempo di canna è l'unico fattore che mi ha lasciato un po perplesso perché mi aspettavo un tempo di canna leggermente più basso comunque è ugualmente buono questa è la cartuccia andiamo un po a vedere come si assembla ragazzi vi ricordo che io andrò in agosto quindi ho preso delle delle cartucce con del come si dice con dei valori di pressione non troppo elevati perché mi devo aspettare col caldo e queste pressioni perché queste sono state regolate condizioni di circa 20 gradi 25 gradi non so ma quelle che mi troverò io sono le 35 quindi dovrei aspettare un valore di pressione un po superiore e che potrebbe anche superare i 700 metri 700 bar tempi di canna un po più bassi e velocità leggermente più elevato insomma quello che ci si aspetta quando si va a provare una cartuccia che è stata provata in condizioni di fresco con molto caldo ecco perché sto cercando di scegliere degli assetti dove so che le pressioni non sono elevatissime perché pressione elevata con quel caldo probabilmente diventerebbe la pressione eccessiva con conseguenza dispersione del del piombo rosate meno meno belle eccetera ragazzi ricordatevi sempre che nella poestica certezze non ce ne sono si vedono soltanto sul campo però già sapere queste dobbiamo fare delle cartucce per il caldo già sapersi orientate su pressioni non troppo alte può essere un aiuto ok è un addirittura che vi volevo dare vediamo un po come si assembla questa cartuccia molto semplice cartuccia semplice e rapida da assemblare per prima cosa per diciamo un grammo e 15 di polvere ok questo polvere scorre abbastanza bene guardate questo è il boss che ho fatto per l'occasione e l'ho stampato ovviamente io a un tema quaglia con con logo della polvere a meno 90 2s piombo 10 ovviamente è quello che scelgo che ritengo essere uno dei migliori per lo scopo c'è chi usa anche l'11 e il 12 ma io preferisco mangiare la selvaggia e non mangiare piombo sono ovviamente scelte questa è la famosa borra che andiamo inserire la portiamo a contatto con la polvere e possiamo tranquillamente andare a pesare il piombo come vi dicevo piombo del 10 quindi piccolino sto dicendo questo quando si usa piombo molto piccolo è facile che ne resti di più sulla pelle o sul corpo dell'animale 23 grammi ricordo questa cosa può essere abbastanza seccante perché poi ve lo ritrovate in bocca quando mangiate allora uno dovrebbe scegliere un piombo che sia adeguato all'amore del selvatico cioè per esempio chi va col 10 anche a conigli dicendo così ho una rosata migliore all'argameio tutte cavolate quello che attenete è soltanto di trovare un sacco di piombo in bocca che neanche vedrà la possibilità di levare io dico ogni tipo di pallino è adatto alla selvaggina dato che noi non andiamo a fringuelli piombo 12 e 13 per me non sono da proporre ognuno per carità ha arrivato questo è il mio modo di pensare quindi io carico il numero 10 carico il numero 8 e carico il numero 5 con queste tre numerazioni faccio praticamente tutta la selvaggina possibile e immaginabile ad eccezione ovviamente del cinghiale ok guardate un pochettino dove sono arrivato come vedete ho lo spazio perfetto per fare una bella stellare per fare questa cartuccia dato che non dispongo della ecco sono un po' più basso rispetto al normale quindi per non evitare che mi venga un poco incavata dovrei utilizzare un coniatore, un ribassatore purtroppo non li dispongo e quindi mi accontenterò di farla così l'ideale sarebbe coniatore ribassatore e una i2s come bobbino io la i2s al 28 ce l'ho ma non avendo il coniatore per ribassatore non ho cambiato niente allora tanto vale che chiudo una t2 e mi viene ugualmente una buona cartuccia senza essere perfetta ok procediamo per prima cosa la crempatura abbiamo fatto a stellare ecco fatto adesso la cartuccia è finita come vedete è venuta abbastanza bene la chiusura è buona anche esteticamente si presenta abbastanza bene questa è una delle cartucce che mi porterò in macedoni speriamo che anche sul campo lì non mi deluda e faccio il suo lavoro ok ragazzi una bella cartuccia per quaglia l'ho condivisa con voi non so se voi andate all'estero se la vorrete utilizzare in italia ma sicuramente è una buona cartuccia da fare e replicare io anche con questa volta vi saluto vi auguro una buona continuazione e un grande bocca al lupo alla prossima ciao